mi vede entrare lo vedo mi fissa lo fisso mi fissa ancora lo fisso ancora mi fa un segno panico ripete il segno lo vedo mi fissa lo fisso mi paralizzo guardo le mie colleghe e i miei ma hanno tutti la mia stessa espressione sparuta allora faccio l'unica cosa che so fare scusi per il ritardo lui sorride sono passati lunghi minuti da quando ha letto le mie labbra ha capito quello che ho detto mi ha risposto in segni e io non ho recepito ha detto di sederti lui è il primo professore universitario sordo italiano io un'allieva in ritardo destina perché i sordi spoiler parlano via la mamma e la bambinaia l'uomo adulto alla naia nel tragico anno del 2004 nel ventitreesimo giorno del torrito agosto una legge sanciva la fine di nera la fine di un'esperienza ludico formativa che tutti i giovani in età maggiorenne avrebbero rimpianto per sempre la galliardica leva ma bando alle ciance e agli sproloqui vediamo come funzionava la leva comunemente chiamata naia parla un uomo dalla alta esperienza di soldato di leva che finito quell'anno ha compreso quali sono gli oneri e i doveri di un cittadino italiano di un vero civile combattente perché perché lavoravo di notte vado la mi faccio una luce di ferro quando ho visto il cittadino che di bacazzi nel cervello cioè io devo marciare sotto il sole non andare in guerra ma che cosa cazzo mi ha mandato acqua ancora io già da subito quale disonore portano persone di questo calibro che non apprezzano il valore della patria pendiamo dalle labbra del maresciallo dell'esercito che ormai in pensione consiglia dall'alto i giovani che intraprendono questa strada di gloria e fama allora nei primi tre mesi ho pensato più volte di andarmi tante di quelle cose che nella vita nella vita nel reale normale non ce li hai cioè non è che tu la mattina ti alzi semente perché visto che ho intenzione di andare avanti si è positiva ci sono aspetti che non si possono dire né adesso né mai perché bisogna solo tenerli per sé siamo quelli di ninja che aspettano il loro momento per poter attaccare la nostra preda legge che gli uomini ci possono togliere il nostro pezzo di territorio come donne come donne del XX secolo abbiamo sempre più voglia di intraprendere strade diverse nella società che è stata creata abbiamo voglia di essere donne senza pregiudizi e doveri grazie alle nostre antenate molte volte possiamo avere delle opportunità che non hanno dei precedenti avere la possibilità di poter lavorare in qualsiasi settore nel mondo del lavoro essere soddisfatti di se stesse non avere paura di mostrare le nostre paure e soprattutto le nostre fragilità grazie a tutti